Io mi aspetto molto dal nostro Presidente, perché fino adesso nessuno ci ha ascoltato. Siamo persone civili, abbiamo manifestato per far conoscere il problema, adesso lo sanno tutti. Vorremmo che il nostro Presidente si impegni, perché è una persona che stimiamo molto. E delle nostre zone. Non solo delle nostre zone, ma è un'oppressione veramente cara. Allora, questo volevo dire. La visita del segretario particolare del Presidente della Repubblica Napolitano, Umberto Ragneri, ha fatto sì che il lumicino della speranza si ravvivasse. Sono bastate poche parole per risollevare, seppur leggermente, gli animi abbattuti e umiliati degli operai Irisbus per farli sentire meno soli. Onorevole, lei appena detto pubblicamente, ha dato una speranza. Questa vertenza si può vincere? Io penso di sì. Se si condurrà con intelligenza la battaglia sindacale, riuscendo a mantenere uniti i lavoratori e in un rapporto positivo con il territorio, gli argomenti che i lavoratori portano a sostegno della tesi che questa fabbrica va difesa, sono argomenti molto forti. Il Presidente è stato informato, mi dicono i compagni, della situazione della fabbrica e sono convinto che troverà le parole e gli atti per manifestare il suo sostegno a una battaglia giusta dei lavoratori, di una realtà meridionale cui il Presidente Napolitano tiene molto. Ranieri, uomo del Sud di Napoli, come Giorgio Napolitano, ha ascoltato le parole accorate e le dignitosa grida di aiuto della classe operaia e le opinioni dei sindaci di Flumeri di Grotta Minarda. Il responsabile del Partito Democratico per il Mezzogiorno ha anche detto che la posizione della Fiat è inaccettabile e gli argomenti che pone alla base della sua scelta non sono fondati. L'Irisbus non è un ferro vecchio, ma una fabbrica all'avanguardia e i lavoratori hanno dimostrato di saper e voler lavorare. Non regge neanche il motivo legato all'andamento del mercato, poiché urge rinnovare il parco autobus e che c'è la necessità di predisporre un piano nazionale per il trasporto pubblico. La scelta dell'ingotto continuare a Nieri di andare via da questa terra è gravida di conseguenze, perciò è fondamentale dare l'alta. Ciò si può fare con l'unità dei lavoratori, uno dei metodi più antichi ed efficaci. In queste quattro settimane che dovranno passare per arrivare al prossimo incontro governativo bisogna pianificare e lavorare affinché il governo sia presente. Bisogna richiamare i parlamentari per farli diventare parte integrante di questa battaglia. Umberto Ranieri conclude che nel quadro più ampio dei negoziati che tuteli i lavoratori si deve considerare anche l'eventualità di un altro imprenditore di caratura nazionale o internazionale che possa divenire un interlocutore. E a proposito dell'incontro svoltosi mercoledì presso il Ministero dello Sviluppo, il Ministro Rotondi precisa alcuni aspetti. Si è scritto che il governo si è defilato e che io stesso sarei stato presente a titolo personale come ospite in un altro di Castero. Naturalmente è così, dichiara Rotondi. La vertenza investe competenze dei Ministeri dello Sviluppo dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente. La presenza del Ministro per l'attuazione del programma non poteva che essere priva di ruoli decisionali e pertanto imputabile solo alla mia partecipazione a questo dramma. Non è invece esatto dire che il governo si è defilato in quanto mancavano i ministri competenti. Intendiamoci bene, dice Rotondi, nemmeno io ho gradito l'assenza dei colleghi investiti per competenza dalla questione. Ma nei tavoli di questo tipo non è obbligatoria la presenza del Ministro e il governo è ugualmente rappresentato quando a guidare i lavori sono dirigenti apicali di riconosciuta, autorevolezza ed esperienza. Fiat Iveco, invece, ha assunto una posizione chiara, netta e non mediabile, nonché tale da rendere francamente impossibile ed inutile qualsiasi intervento del governo. Più che un tavolo di crisi, mi è parso il luogo in cui l'azienda ha chiarito che intende lasciare l'Irpinia e che considera conclusa questa esperienza. Naturalmente continuerò a fare la mia parte per seguire un'emergenza sociale ed occupazionale su cui restiamo tutti impegnati, come i lavoratori sanno, senza alibi né di ferie né di qualsiasi altro impegno politico. E poi il Ministro conclude, per me sarebbe più comodo defilarmi, tanto più non avendo nemmeno una rappresentanza istituzionale di quel territorio, ma preferisco mettere la faccia in un insuccesso piuttosto che partire per le vacanze, sapendo che tanti mie coetani marciano verso una curva difficile della loro vita lavorativa.